Dopo 210 giorni è terminato il cammino dei nostri concittadini Davide D'Arrigo ed Alessandro Alati che mercoledì 11 ottobre hanno raggiunto la meta che si erano prefissati lo scorso 5 marzo, Caponord. I due amici di Sora, dopo aver percorso 6.376 km a piedi, sono rientrati nella loro città dove il sindaco Luca Di Stefano con buona parte dei membri del Consiglio Comunale e tanti amici e familiari si sono riuniti in sala consigliare per stringerli in un virtuale abbraccio collettivo e per ascoltare, seppur brevemente, alcuni momenti di questa loro straordinaria avventura. Raccontiamo la storia di un viaggio, di un viaggio unico, da Sora fino a Caponord, di due ragazzi sorani, Davide ed Alessandro. Secondo me, ecco, in un'epoca in cui ci sono degli esempi non sempre giusti in questa società credo che raccontare questa storia sia anche un omaggio a due ragazzi seri ad esempio di caparbietà, di abnegazione, di sacrificio veramente che possano raccontare, io gli auguro che possano raccontare questo viaggio anche all'interno delle scuole per far capire l'importanza di un viaggio intriso di sentimenti, emozioni ma allo stesso tempo di un sogno che solo a pensare di fare un'impresa del genere secondo me è una cosa grandissima invece realizzarla è altrettanto grande e importante quindi credo che la città di Sora doveva assolutamente omaggiare questi due ragazzi che hanno sicuramente promosso l'immagine della nostra città in tutti questi territori perché in 210 giorni hanno fatto veramente tantissimi chilometri e noi siamo qui per rendere merito. La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali ai ragazzi da parte degli amministratori, dai rappresentanti del CAI di Sora e dal panificatore Franco Sanità che ha ricordato il lavoro di Alessandro nel mantenere vivo il lievito madre partito con loro dal castello di San Casto questo viaggio intitolato appunto la via del lievito Sora Nord Cup resterà per i protagonisti e per chi gli è e gli è stato a fianco in questi mesi come genitori, fratelli e fidanzate un'esperienza da condividere e raccontare perché sono state davvero tante le sensazioni e le emozioni vissute da loro in questi 210 giorni. Per chi non ci conoscesse siamo quei due ragazzi che hanno intrapreso questo viaggio fino a Caponord partendo da Sora ci sarebbe così tanto da dire rispetto al nostro viaggio che non potremmo mai racchiuderlo in un'intervista nonostante ciò ci proviamo oggi siamo qui riuniti con il comune che ci omaggia e non vediamo l'ora di esporre alcuni punti che ci sono posti lungo il viaggio anche se dovessimo riassumere in breve cosa ci accade un'emozione davvero unica e come è stato il nostro motto nel nostro viaggio che spettacolo essere qui siamo partiti il 5 marzo da Sora dal nostro castello di San Casto e abbiamo percorso tutta l'Europa a piedi percorrendo 6.376 km di straordinari paesaggi e nazioni dall'Italia all'Austria alla Germania alla Danimarca alla Svezia la bellezza della Lapponia in Finlandia e la Norvegia fino ad arrivare al nostro sogno che era Caponord e questo sogno è nato grazie alla volontà di tutte e due di comunque andare verso una direzione che era quella di Caponord e abbiamo avuto la fortuna di rincontrarci nella vita questa fortuna è stata quella che poi ha aiutato come definiscono gli audaci perché effettivamente il trovarci ogni giorno con la missione di dover compiere di raggiungere l'obiettivo del giorno ci ha fatto mantenere il focus in un certo senso perché noi volevamo raggiungere l'obiettivo ma pensare alla destinazione in sé sarebbe stata critica e a volte ci siamo caduti ciò nonostante ci siamo fatti forza a null'altro nei momenti di difficoltà che menzioneremo poi alcuni perché ce ne sono stati infiniti ma infinite sono state anche le gioie i paesaggi incontrati le persone che ci hanno dato qualcosa e quel qualcosa che siamo riusciti a dare alle persone è inestimabile veramente è stata un'esperienza del quale sappiamo non ci pentiremo né di averlo fatto ma soprattutto non ci pentiremo ci pentiremo di quello che abbiamo fatto lungo il percorso tornando a casa sicuramente siamo tornati in aereo ovviamente non a piedi ci siamo resi conti che comunque il diario di bordo che scrivevamo sui social è andato veramente al cuore delle persone lungo il percorso abbiamo narrato il nostro castello le nostre origini per sette mesi ma la cosa più bella è stata la risposta della nostra città dai giovani ai adulti voglio soprattutto complimentarmi con gli adulti perché hanno sognato hanno avuto una risposta più energica e si è visto proprio che hanno dei sogni nel cassetto che casomai noi li abbiamo un po' riaperti a sperare io dico sempre che un sogno è fatto per tutti noi abbiamo sognato abbiamo realizzato e chissà la vita dove ci porterà ma i grandi sogni si fanno sempre nelle mura della nostra città e della nostra casa e questo è magnifico il rientro se non altro è stato molto duro nonostante i chilometri spesi anzi grazie proprio ai chilometri spesi ci siamo resi conto che un ritorno così veloce con l'aereo è stato troppo impattante per i nostri gusti ciò nonostante ci stiamo ristabilizzando ci stiamo ritornando alla civiltà che ci ha dato un buono schiaffo ma saremo pronti anche a questo perché l'importanza adesso è quella di trasmettere quello che veramente vogliamo il viaggio il viaggio ci ha insegnato a convivere ma ci ha insegnato tante altre cose mettiamola su un piano di crescita siamo ci porteremo dentro tanto e quel tanto anche se in piccole parti speriamo di donarlo a coloro che ci seguono ascolteranno della nostra storia essendola noi la prova che con tanti piccoli passi si raggiunge qualunque meta sicuramente come ha detto Alessandro mi ritrovo nelle sue parole sul fatto che sicuramente è stata una bella impresa fisica però il vero messaggio è un messaggio più profondo verso tutte le persone che in questo momento giustamente soffrono una realtà difficile della vita è difficile giustamente arrivare ai propri sogni ai propri obiettivi ovviamente parlo dei giovani che hanno difficoltà ad uscire in questo mondo difficile però come ha detto Alessandro con il sacrificio e con la programmazione con i progetti tutti quanti possono arrivare qualsiasi meta ma la meta più lontana secondo me che si può toccare lungo il percorso della vita è quella dentro di noi è una meta molto importante e spero che io e Alessandro cammineremo ancora per questo perché è una meta lunga ma è vicina dentro di noi la cerimonia si è conclusa con la foto di rito con la bandiera con il logo del castello di Sora arricchita dalle tante firme raccolte e l'omaggio da parte del sindaco di una targa celebrativa di questo straordinario viaggio che spettacolo ragazzi grazie a tutti